Studio Danza, 41esima prima. Azione! Studio Danza da quest'anno estende i propri corsi grazie alla nuova succursale Metropol. Danza classica, contemporanea, modern jazz, hip hop, tango argentino e novità, pilates, ginnastica dolce, post parto e danza fitness sia la mattina che la sera. Studio Danza, il punto d'incontro delle giovani promesse, è nelle due sedi di Via Fata Morgana 11 e Via Gagini numero 4 a Messina.